Andiamo a cuocere in una pentola con un pochino d'aglio, sempre un po' di origano e un pochino di basilico. Facciamo cuocere una specie di pappa al pomodoro, poi andiamo a stendere e la stendiamo sul pappa e la facciamo cuocere a forno a 90 gradi per 5-6 ore, in modo da avere praticamente un croccante di pane pomodoro, che sa proprio di conservare il pane pomodoro. Per cui comunque noi non sprechiamo mai il multato di quello che adoperiamo, diciamo qualcosina si dovrebbe fare sempre così. Non c'era se aspettiamo 5 ore per fare questo o per facciamo il tempo, quindi abbiamo contato questo, solo questo, un'altra piccola cosa che abbiamo fatto.